Il peggio è passato per Eleonora Cecere, ma il ricordo di quel periodo è ancora doloroso. L'ex star di Nona Rai, oggi attrice teatrale, ne parla per la prima volta al settimanale nuovo, a ottobre è cominciato il calvario. Avevo continue emorragie e dolori lancinanti. Dopo una lunga indagine e un intervento in la paroscopia, scopro di avere oltre all'endometrio sia anche un fibroma, e, stata una battaglia complicata e durissima, per risolvere la situazione ho fatto un'isterettomia, cioè mi hanno tolto l'utero e le tube, ma poi il percorso è stato complicato da una forte infezione. Ho rischiato la setticemia, ma per fortuna i ginecologi dell'ospedale Sant'Andrea di Roma sono riusciti a scongiurare il pericolo. Difficile per lei accettare le conseguenze, a darle tante il compagno e la fede, riscoperta proprio in quel periodo. Non hai più una parte di te, psicologicamente è terribile spiega ma è stato il prezzo che ho accettato di pagare per stare bene. Mi ha salvato l'idea che questa operazione fosse l'unica scelta possibile. Ne abbiamo parlato tanto io e Luigi, e il fatto di avere già due meravigliose bambine ci ha fatto percorrere più serenamente questa strada obbligata. Padre Pio mi ha aiutato, mi sono avvicinata a lui perché ho sempre amato la sua figura e la sua storia. Padre Pio. Padre Pio mi ha aiutato, 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 mi ha aiutato.